Musica Bene, eccoci qua anche oggi insieme, secondo appuntamento con Sergio Benetello che è il presidente dell'Italian Solar Info Center. Nella precedente puntata abbiamo presentato una nuova idea, un brevetto innovativo nato proprio all'interno di questa realtà, l'abbiamo chiamato Icaro Soluzione Ambitante, si chiama Icaro Soluzione Ambitante, la società stessa è Icaro, è un SRL. Questo per dire insomma cosa matura in questa zona di Padova e via Ma che quartiere è quello lì dove siete voi da una quindicina d'anni? Dov'è l'Italian Solar Info Center? In zona Tichiero, diciamo abbiamo... Era per identificare questa fucina di idee? Sì, è tra la tangenziale e l'autostrada e abbiamo un polmone verde di 35 mila metri quadri, ecco questo è il vanto di quella zona. Quasi anche un parco energetico avete realizzato. Sì, direi di sì, anche perché abbiamo tutte le tipologie, abbiamo impianti integrati, abbiamo impianti su pensiline, abbiamo impianti di tutti i tipi, abbiamo il cosiddetto frangisole di impianto. È che il mercato ci ha tradito perché il mercato oggi per motivi più banali non sta più seguendo questa realtà, come dire, non la nostra realtà, la realtà del fotovoltaico che continua a essere molto importante ma al tempo stesso anche molto gratificante e che non viene ricepito. È perché sono finiti gli incentivi statali, si diceva. Sì, però quando c'erano gli incentivi non avevo la possibilità di autoconsumo. Oggi che ho l'autoconsumo e di conseguenza tutta la mia produzione la uso direttamente e risparmio tutto il costo della voletta, CISE, IVA, eccetera, tutto compreso, che mi fa una somma importante, ammortizzo con la riduzione dei costi dei pannelli della manodopera perché non si sa perché abbiamo ridotto tutti i costi in generale, fa sì che oggi un ammortamento dell'impianto fotovoltaico avviene in 4-5 anni. Prima ci mettevano 8 anni con l'incentivo. Allora io dico, se non è più performante oggi, però non è recepito, non c'è incentivo, ti dicono. Siamo italiani, in questo purtroppo evidentemente la cultura del risparmio energetico non permea ancora la nostra società, a iniziare dai professionisti. Non è sentita proprio, ognuno ragiona così, ma non c'è più incentivo, cosa vuoi che faccia l'impianto fotovoltaico. E allora ecco che viene già smontato in partenza questa possibilità reale che invece è quella di poter dire che prima si ammortizzava in 8 anni, oggi si ammortizza in 4-5. Punto. Detto ciò, che vuol dire, è importante, ma anche ricordato che uno dovrebbe fare una scelta energeticamente compatibile, anche perché di pianeta ne abbiamo uno solo, i cambiamenti climatici ormai li avvertiamo tutti quanti. Forse è il caso di pensare che dobbiamo cambiare modello. Li vediamo tutti i giorni perché quando non ci sono inondazioni, ci sono ossicità, ci sono incendi eccetera. Questo è stato un mutamento talmente rapido che non possiamo dare solo colpa ai cicli ambientali, ma è un ciclo che abbiamo fortemente forzato con i nostri consumi, con i nostri modi di fare, con il nostro modo di gestire, perché siamo noi i gestori del pianeta. Ecco, in questa puntata mi piaceva un po' celebrare l'attività all'epoca, devo dire, un po' tra virgolette visionale, quando è nato l'ISI Center, che è nato sulla scia di un accordo che ci fu, ormai parliamo della 15 anni fa, fra le città di Padova e Friburgo. Friburgo è considerata la città forse più verde d'Europa. Sì, la capitale tuttora mantiene questo anche se tanto il Giappone che la Cina hanno copiato molto e stanno progredendo in maniera, quantomeno nella costruzione di questi elementi dei moduli fotovoltaici e di tutti i sistemi energetici c'è stato un passaggio molto importante, però hanno le città invivibili perché non hanno messo in pratica quello che stanno facendo oggi, lo dovrebbero mettere in pratica anche nel loro territorio, ma non è così tanto facile. Ecco, lei all'epoca era ed è tuttora un imprenditore edile e forte anche, forse affascinato da quell'esperienza di Friburgo, fece svoltare la sua attività dalla mera costruzione edile ad un modo di costruire ecologicamente compatibile, quindi i pannelli fotovoltaici, le case prima passive e poi attive. La prima casa passiva in ristrutturazione l'abbiamo fatta noi. Le coibentazioni, come vede sono preparato. Sì, 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 ma questa è una verità che abbiamo vissuto insieme perché lei è venuto molte volte ai nostri incontri, eccetera, eccetera. Diciamo, sì. Ecco, dove siamo arrivati? Perché lei prima ovviamente è partito dal dato negativo, ma in questi 15 anni cosa hai visto cambiare? Ho visto cambiare molto, però non ho visto, a livello aziendale, noi non abbiamo avuto questo incremento, abbiamo incrementato l'idea nel territorio, però forse proprio perché noi l'abbiamo incrementata e l'abbiamo, come dire, manopolizzata, messa in evidenza, sembrava che noi fossimo quei costi maggiori e invece non è vero perché bisogna stare sul mercato e abbiamo avuto una flessione di commesse importanti perché poi ci sono le solite storie che sappiamo tutti, i famosi incentive a 10 anni, anche se il 65%, sono visti con tempi troppo lunghi, allora preferiscono lavorare con aziende o anche non aziende ma singoli soggetti che non fatturano, eccetera, risparnono il 22% di IVA subito, un altro 20% di riduzione di costi generali che non hanno e di conseguenza... Si chiama abusivismo. Abusivismo che ha portato via una grande feta di mercato a tutti gli operatori, non solo a noi, a tutti gli operatori corretti e iscritti con tutte le regole del caso, dalla sicurezza a tutto il resto, abbiamo una miriade di regole per arrivare alla fine del DURC e di conseguenza ci sono poche aziende che sono riuscite a inserirsi in un contesto, come dire, di elevata capacità sull'esperienza nostra e di altri che continuano a lavorare in maniera discreta, ma la maggior parte hanno dovuto tirare i remi in barca come abbiamo fatto noi negli ultimi anni perché le commesse non sono più sufficienti a mantenere un organico che aveva bisogno ovviamente di... E a proposito di rimi in barca, va anche ricordato che a Padova sulla scia di un certo entusiasmo era nato addirittura a un distretto del fotovoltaico che ahimè insomma ci è ridotto notevolmente. Sì, diciamo che appunto abbiamo delle visioni che sono parziali, cioè giustamente è stato detto prima, l'incentivo. L'incentivo è una cosa banale che ha un senso nella sua logica di tempi di ammortamento. Se io ho l'incentivo e che metto dieci anni a ammortizzare il costo senza incentivo ne metto cinque, ci sarà una motivazione. Certo, qui parliamo dei privati però tocchiamo un altro tasto dolente, il rapporto con le amministrazioni pubbliche, che io ricordo come lei diceva, conoscendoci da tempo, avendo la seguita, ad esempio l'entusiasmo, l'inaugurazione della prima pensilina coperta per parcheggio, uno vede e dice caspita è fatta, cioè adesso tutti i parcheggi mette le pensiline con i pannelli fotovoltaici, invece quello come tante altre cose non cresce. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter fare l'Euganeo, cioè tutti quei parcheggi del campo calcio, diciamo così, dell'Euganeo, tanti altri interventi per il comune, molto belli, molto capaci. Qui parliamo di Padova, ma sarebbe parlare più in generale del rapporto con le amministrazioni. Ma tutte le amministrazioni, al dopo, qual è il problema? Le amministrazioni oggi come oggi col sistema di loro possibilità di spesa sono sempre resti a fare qualcosa, cioè devono fare soltanto l'indispensabile, c'è una buca da chiudere sulla strada, è un obbligo, ma il fotovoltaico sulla pensilina, eccetera, non si fa più. Noi abbiamo lavorato su Iesolo, abbiamo lavorato su Carola, abbiamo lavorato un po' dappertutto nel tentativo di esprimere questo. Mi auguro che adesso ci sia un ritorno con il tema delle macchine elettriche, cioè noi proponiamo delle pensiline, questo è un altro progetto che verrà esaltato a suo tempo, con le pensiline per ricarica delle altre. Cioè, io ho un ricovero... Lei mi ha anticipato, perché pensavo che lei mi dicesse che non era possibile, invece mi sta dicendo esattamente il contrario che si può, perché sono stato recentemente a Milano, dove devo dire in città, un po' di colonine ci sono. Qualcuna si vede anche dalle nostre parti, però voglio dire, poi l'energia elettrica che viene fornita è quella consueta. Anche io mi aspetterei una colonina di ricarica con sopra il pannello fotovoltaico. Direi che questo è il top, no, perché se noi continuiamo a dire facciamo la ricarica, se no ha ragione qualcuno che ha detto sì, ma la macchina elettrica se poi mi va con l'energia prodotta dal carbone o prodotto da... non è così disinquinante ed è esattamente vero. Però se io faccio la pensilina con la mia possibilità di ricarica i 3, i 2, 3, 4, 5 kilowatt di pannelli fotovoltaici di copertura e mi permette di ricaricare la mia vettura con questa energia, io ho inquinamento zero, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma siamo ancora lontani, ecco, allora, la riduzione del costo delle vetture elettriche che sta avvenendo perché è un obbligo del mercato e la riduzione del costo del fotovoltaico, la possibilità di fare pensiline di tipologie sempre più economiche ma sempre più valide, mi auguro che arriveremo a tempi brevi se non dal prossimo anno o entro il 2020 ad avere delle pensiline che aiutano a ammortizzare anche il costo della macchina, con lo stesso sistema che ho detto prima delle casette. Grazie, insomma si può fare, questo è un po' il messaggio di Sergio Benetello, presidente dell'Italian Solar Info Center che ringraziamo per la sua presenza, auguriamo naturalmente buon lavoro, le idee non mancano in questa fucina per l'energia rinnovabile e il risparmio energetico ad Altichiero, Padova. Grazie, alla prossima. A voi, buongiorno. Grazie.